Nuove CPU in arrivo, nuove schede video in arrivo, sì, bello, ma io me devo fare un PC, devo aspettà o posso farmelo pure adesso? Ecco, cerchiamo di dare una risposta a questa domanda. Per dare una risposta però dobbiamo anche analizzare cosa sta arrivando, quindi vediamo le news su nuove CPU Intel, AMD, nonché schede video di Nvidia e AMD. Ma insomma, tante chiacchiere, informazioni varie, dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su SD Hardware, sono Davide con l'Ampiozione, oggi parliamo di novità, nuove CPU, nuove schede video e risponderemo a una domanda molto interessante che avviene ciclicamente ogni volta che arrivano nuovi componenti, quelli importanti, quindi i principali processori e schede video. Conviene aspettare le nuove uscite, visto che stiamo borderline due, tre mesi, quattro, oppure compramo e amen? Rispondiamo a questa domanda nelle conclusioni, ma come rispondere senza un'analisi di quello che sta io a? Quindi analizziamo anche le news. Ma prima di tutto ragazzi, iscrivetevi, se è la prima volta che vedete sto faccino, bottoncione rosso è gratuito, lo trovate qui sotto, like, commentino, che sono sempre importanti per pompare il video nelle ricerche da YouTube e partiamo con lo sponsor di oggi. Sponsor di oggi ragazzi è CasePan, CasePan è un sito dove potete comprare case Windows, Office e tanto altro. A prezzoni, provvedete un po' a voi se vi conviene oppure no, sta di fatto che Windows ve lo portate a casa, ecco, quanto costa normalmente? 199 euro? Grazie al coupon che vi lascio qui, ESS50, riuscite a prenderlo a meno di 15 euro. E poi è un attimo attivarlo, andate su impostazioni, sistema, attivazione e piazzate la key, insomma state vedendo a video come fai. Ma anche Office ve lo potete portare a casa a prezzoni con il codice ESS62. Oltretutto potete pagare tranquillamente con Paypal e basta vedere Traspilot, 4,8 su 5, quindi super sicuro. CasePan, tutti i link sono giù in descrizione. Sponsor è andato, ma vi ricordo che c'è sta giù in descrizione anche il link del canale Telegram delle Offerte, che mostra i Val Black Friday, Natale, magari ecco se state qua e volete fare un PC, entrateci, vi conviene. E anche la chat di gruppo, ci sono gli altri admin pronti a darvi una mano a rispondere insomma alle vostre domande. Tante chiacchiere, ma è giusto partire con l'argomento cardine, quindi andare a parlare un attimo delle nuove CPU in arrivo, quindi sia Intel che AMD, poi le schede video e poi rispondere alla domanda, tanto decantata in questo periodo, per capire se appunto vale la pena aspettare oppure no, affasse un PC. Vi dico, video argomentato più che altro sul gaming, come tutti i video sul canale, però una citazione alla produttività va fatta anche visto le CPU che stanno per arrivare, ok? No, non vi spoiler, attacchiamo e vediamo. Partiamo da Intel che è l'annuncio più fresco, ok? Ma anche i leak che poi vedremo di AMD. Diciamo che ieri, l'altro ieri, non so quando pubblico il video, finalmente è decaduto l'NDA sui nuovi processori Intel, la famiglia Arrow Lake, quindi la quindicesima generazione, che oltre a cambiare nome, quindi questo è un gran cambiamento, perché passiamo con i Core Ultra anche qui, come è già avvenuto sui laptop, quindi niente più 15900K, ma avremo l'Ultra 9 285K. Nomenclatura che va un po', diciamo, a rendere complessa. La questione, mai quanto gli Strix Point di AMD, però insomma, non è che sia proprio fantastica. Oltre a questa rivoluzione c'è anche una rivoluzione bella grande sul processo produttivo, perché andiamo via da Intel, non li produce per la gran parte loro. Si basano anche loro su TSMC, poi ecco la parte compute a 3nm, 5nm a GPU, 6nm la parte di input-output, eccetera. Quindi c'è un po' il miscuglio di processi produttivi. E come architettura rimane P-Core e Core, come filosofia di Intel. Quindi AMD continua a fare i suoi Core tutti uguali, loro invece danno, ecco anzi, precedenza agli E-Core, perché hanno fatto un bel salto, parlano almeno, teoricamente, di un 30% di performance in più da parte degli E-Core e un 9 circa dai P-Core, che quindi comunque non è che c'è stato tutto questo upgrade. Però ecco, questi E-Core c'è bisogno che lavorino di più, anche per un altro motivo. Hanno disattivato l'hypertrading, quindi non ci avremo più quelle nomenclature con Core e Thread diversi, ma avremo 14 Core e 14 Thread, per esempio nel caso dell'I5, che sarà un 6 più 8, ok? E così via, 24, per esempio l'I9, che poi 9, mo' bisogna un attimo abituarsi a chiamarlo Ultra 9, ok? E quale arriveranno, quali processori? Ultra 9, 285K, Ultra 7, 265K e KF, Ultra 5, 245K e KF, quindi l'I5, l'I7 e l'I9 delle vecchie gen. Prezzi più o meno in linea ai vecchi. Mo' si, tutte queste chiacchiere, più 30%, più 9%, ma c'è da dire che su alcune slide, ok? Con test che hanno portato, si è puntato tanto all'efficienza. Anche perché a mio avviso è un Lunar Lake, che sono processori che già sono usciti dal tuo laptop, scalati per arrivare sul desktop, con anche cose inutili, tipo una GPU molto più performante, ma comunque non c'è poi giocare. L'NPU è ok, se stai su un desktop vai a sfruttare più la scheda video dedicata che c'hai. Insomma, cose che tornano un po' meno e soprattutto, a mio avviso, poche performance effettive in più. Si parla comunque di un miglioramento molto importante al lato efficienza, quindi ecco, anche 15 gradi in meno, 50% in meno di consumi lato produttività, poi va a vedere proprio i test in gaming e te lo confrontano col 14900K, e sembra una parità dell'N9, dell'Ultra 9, ok? Quindi grandi avanzamenti da quel punto di vista non ce stanno, anche poi delle cose un po' ambigue tipo Formula 1 23 e 24 nello stesso grafico, vabbè, lasciamo perdere questa storia. Sembra da quel punto di vista un salto abbastanza piccolo, se non che vanno uguali. Ok, i consumi in meno, però devono comunque andare più da gen to gen, e invece sembra proprio no. Ci sono però confronti poi multi-thread con il 9950X, ecco, di media sembra andare qualcosina di più con l'ultima gen di AMD, poi comunque tocca a vedere come col gaming, eh? Poi magari si roccano a stecca perché hanno fatto dei consumi bassissimi, ma in realtà se li tiri viaggiano, tocca a vedere. Però così come sembra, boh, non lo so. Sembra che non vanno tanto per il gaming, ma vanno più per la situazione produttività, con temperature molto più basse, con tutti i cor che girano, nonché consumi più bassi. Cosa si porta con sé però a questi nuovi processori? Anche un nuovo socket, LGA 1851. Che vuol dire? Non nuovi dissipatori, perché già tutti i brand stanno mandando le loro mail per dire oh, guarda che noi, il dissipatore che già c'hai, tu lo puoi montare pure su 1851. Bene, grazie. Mambo. Questo è il bel problema, cioè nel senso come è successo con i Ryzen nuovi, dei 7000, appena c'è il cambio di socket, va cambiata tutta la piattaforma. E al contrario da AMD, qua non si sa quanto detura. Sa scheda mate, quindi magari fai una gen sola, due gen. AMD dice fino al 2026 tutti i processori che escono sicuro, ecco, 4-5 anni di supporto. Qua è Intel, come al solito, non si sa. Stanno a fare i cambiamenti. Abbiamo visto 3 gen su il socket precedente, però i 14000 non erano una nuova gen. E anzi, Intel non fa un upgrade interessante dai 12000. Ok, dall'ultimo processore che secondo me è stato davvero un bel cambio. Qui effettivamente col cambio di processo produttivo, eccetera, c'è sta un bel cambio e il punto è che poi, ecco, vai a vedere i test, almeno da quello che hanno portato. È tutto incentrato sull'efficienza. Perché? Perché ad oggi si sta puntando tanto sulla parte laptop. Vediamo che infatti è una sorta di lunar lake riportato sul desktop. Non lo so. Andranno testati. Visti così non ne ho la più pallida idea. Non mi convincono più di tanto. E qui già ho lasciato un piccolo pensiero. Poi vediamo nelle conclusioni se vale la pena farse in PC adesso oppure no. Lato processori AMD, tanti leak, non c'è nessuna conferma, ma sembra che a novembre, la prima settimana, quindi prima, massimo, seconda in commercio, arriveranno gli X3D, partendo a scaletta, però non escono tutti insieme, e il primo sarà il 9800X3D. Dai leak dei test che sono usciti proprio di recente da, sembra da MSI tramite dei test, insomma, sembra che con tre test in gaming, questi processori al massimo vanno un 10% in più del 7800X3D. 11 nel caso del 9800X3D, 9.950X 13%. Su Far Cry 6, lì, ci sta anche Shadow of the Tomb Raider che fa tipo un 6-7% in più e poi un uguale su Vukong. Morale della favola, sembra che non è che siano tanto distanti, e alla fine sono dei 9000 con la 3D cache, se i 9000 fanno un 5% in più, 6-7% in più in alcuni casi, di quelli standard dei 7000, è quelli che il 3D può fare 6-7% in più del 3D vecchio, ok? Che è un salto abbastanza a me, a mio avviso. Poi tocca a vedere pure i prezzi a cui arrivano. C'è da dire però il multicore, anche grazie a un boost delle frequenze, perché parliamo, ecco, il 7800X3D GA48 arriva a 5.2, teoricamente il 9800X3D, quindi ecco lì che abbiamo un boost anche di un 25-27% su Cinebench, almeno per il 7800X3D, un boost un po' più basso per quanto riguarda. Il 9950X3D dovremmo stare sul 16, 15-16%. Quindi effettivamente ci saranno degli upgrade, ok? Andranno di più, ma non così tanto da giustificare un upgrade per chi già ha un 7800X3D. Un po' come 7700X e 9700X. No, ne tengo il 7700, ok? Non faccio un upgrade. Se devo fare un nuovo PC, ovviamente ne può valere la pena, ma comunque vanno di più. Il punto è i prezzi, che ancora, non se sa, vanno visti. Abbiamo visto un piccolo ribasso, ok? Sui 9000, 9600X, 300, 250, 260, 9700X, 350, 360, ma sono davvero ancora prezzi alti. Per la differenza dai 7000, pressoché nulla, a mio avviso. Cioè, un salto gen to gen, ecco, è quello fatto dai 3000 ai 5000. Era molto importante, ok? Non mi aspetto quello, però già quello dai 5700, un 15, 17, ok? Ma sotto al 10, ma di che stiamo a parlare? Gli X3D devono essere l'obiettivo finale, ok? Quindi 9000 l'entry level delle CPU di AMD, in realtà, sembra che pure sti X3D. Alla fine, se si potrebbe aspettare, non è che potremmo viaggiare più di tanto. Qui sono ancora lì, che poi andranno testati e quant'altro, però anche qui non è che si prospetta tutto molto rosero. Questo è lato CPU, lato scheda video, partiamo subito con AMD, che finiamo al volo, non ci sta nessuna news, non si sa quando arrivano le 8000, ok? RDNA4. L'unica cosa che si sa è che sembra che al CES presentino la 7650 grey. Perché? Perché manca un buco, cioè è proprio un buco nella line-up di AMD. 7600 XT che va come la 7600, e poi la 7700 XT che va tipo un 30-40% in più. Quindi bisogna colmare questo buco, cioè metteranno mezzo sta scheda e venderanno quella. Però AMD ha tante schede ferme, delle 7000 sta vendendo poco, il mercato non sta andando un granché, devono tagliare ancora i prezzi, a mio avviso, di alcune. Cioè, tipo la 7700 XT è una scheda che se la mettono a 350, già oggi a 400 va parecchio, ma a 350 andrebbe di più. 7600 a 200 euro. Però i prezzi fanno fatica a scendere. Quindi ste nuove gen, anche perché poi ecco, le 8000 non ci avranno top di gamma, dovrebbe essere una generazione stile RDNA1, quindi che si fermano su 700 XT, 800 XT ancora non si è ben capito, però arriveranno più in là. E NVIDIA invece c'è S25, ok? Ormai è quasi dato per certo che vi rappresentate 50, 90, 80 e 70 al CES. Schede video interessanti, un po' meno per il prezzo, ma interessanti per le performance, perlomeno. 50, 90 sembra un altro mostro, tipo 40, 90, con 20.000 passa CUDA, e poi la 50, 80, 10.000 CUDA, quindi la metà. La 50, 70, quasi in arte a metà, 6.000 CUDA. Ricordiamo che i CUDA non scalano lineari, però insomma, vedendo sti numeri, mi aspetto una gen, stile 4000, ok? Però con l'introduzione di RAM, un po' un bel po' veloci, quindi con bandwidth bello enorme, grazie alle GDDR7, e poi consumiche, anche questi, saliranno. Mi sembra una gen stile RTX 3000, ok? Una 2000 overclockata che tira parecchio in più. Più o meno stiamo là. Non mi sembra una gen rivoluzionaria. Poi andrà visto. Pitch Express 5.0, e costi che saranno, a mio avviso, abbastanza alti, ok? Almeno dai lì che sembra la 5080 viaggia tra i 1199 e 1499, fuori di testa a mio avviso, con 5090 tra i 2000 e i 2500 dollari, e stiamo parlando di dollari, quindi quando arriva in euro, ovviamente tra conversione e tasse, è più o meno la stessa pappa, 5070 tra i 599 e 699, questi sono i range, poi tocca vedere effettivamente come li incastiano. Sono tutti leak, nessuna conferma di invidia, ma queste sembrano le schede. Come andranno? Sembra che il salto sia importante al lato 5090, ma anche 5080 in realtà. poi tocca vedere l'architettura come lavora e tocca vedere anche DLSS4, cosa uscirà, le novità, funzionerà solo sulle 5000, andrà anche sulle 4000. Non si sa ragazzi, però sta di fatto che sembra che costeranno tanto, quindi chi vivrà, vedrà. Ma detto questo, queste sono le novità in arrivo e dovrebbero arrivare anche le nuove GPU lato Intel, ma anche lì si sa poco, quindi parlarne è un po' come AMD. Nel momento in cui c'è così pochi, pochi leak, di che stanno a parlare? E soprattutto sono cose che non ti puoi basare sul aspetto o non aspetto, che è quello che parliamo adesso, ovvero belle le CPU Intel, belli 9000 X3D, belle le schede video Nvidia, che faccio? Aspetto per farmi un PC o compro quello che c'è adesso sul mercato. Piccola parentesi su questa storia del mercato, perché è giusto segnalare come un 7800 X3D ad oggi costa quanto? Un 7900 X3D, tutte e due 500 euro, cosa davvero male male male. Anche se l'altro giorno sul canale di offrette ve l'ho postata a 360, ci saranno stati due pezzi, però insomma ogni tanto qualche colpaccio lì si fa, ma nel momento in cui i 9000 sono usciti e hanno un po' deluso i 3D dei 7000 sono volati di prezzo. Ed ecco lì che ad oggi quindi se pensi di prendere un 3D potrebbe anche valerne la pena aspettare i 9000 visti i prezzi dei 7000. Questa è una mia piccola considerazione sugli AMD. Considerazione sugli Intel, vale la pena aspettare se vuoi fare un PC su Intel. a mio avviso già se ti fan PC da gaming non sceglierai Intel, almeno da quello che vediamo, poi tocca a vedere effettivamente testa alla mano perché basarsi sulle slide di Intel non è cosa buona e giusta, ma di solito facendo marketing uno punta a far vedere il meglio. Se nel grafico farai vedere che fai come il 14900K in gaming dopo due anni, dopo un anno e mezzo, ma insomma pensa alla realtà, toccherà vedere poi effettivamente come vanno. Però ecco, lato produttività sembrano interessanti soprattutto per consumi e temperature più basse. Anche lì poi andranno testati. Quindi lato processori conviene aspettare. Se devi prendere un 3D secondo me potrebbe anche valerne la pena visto i prezzi del 7800K ad oggi che ti costa quasi quanto un 7900K fra un po' pure un 7950X3D. Anche quelli piano piano stanno salendo. Quindi boh, potrebbe anche valerne la pena perché pagarlo sopra i 400€ al 7800X3D a mio avviso non fatelo. Però se dovete prendere un PC con 7600K 7700K ecco, abbiamo già i 9000 che stanno a un prezzo senza senso e ad oggi sono i più acquistati di processori di AMD con il S7500F 7600K e il 7700K anche grazie Aliexpress e le promo sui try che te li tirano davvero appresso. Lato Intel ad oggi quante volte ho consigliato un PC Intel? Ve li porto sul canale Assemblati perché avendo pochi componenti in casa uso quelli che c'ho ma consigliati compratelo no. Per quanto riguarda questi nuovi processori Intel c'hai le nuove schede madri che è un punto a sfavore un po' come era con i Ryzen 7000 appena usciti e però qua c'hai pure la variabile di oh ma quanto dura sta scheda madre io investo su una Z quanto tempo me dura? Oltretutto le nuove schede un po' come le X870 stanno introducendo anche meccanismi nuovi per semplificare l'assemblaggio quindi te le venderanno anche a una fucilata. Boh non lo so non so quanto conviene optare per queste nuove gen di processori Intel ma poi ci smentiranno i test magari eh non lo so. Lato schede video ecco qui a parte che andiamo un po' più lunghi nel tempo dobbiamo aspettare a gennaio e poi tocca a vedere sembra che la 5070 da lì che esca anche essa a gennaio però non si sa se viene escono quasi tutte insieme quindi a distanza di una o due settimane oppure ecco le presentano insieme e poi chissà quando esce però non lo so non mi sembra una situazione interessante lato prezzi lato performance secondo me andranno come schede però mi sembra una scheda di mezzo un po' come i 3000 però le 3000 costavano poco poi lasciate perdere tutta la situazione shortage qui invece vediamo dei prezzi che sembrano interessanti ma nel momento in cui AMD ti dice io non ce sto sulla fascia alta invidia ciao 5090 5080 e tocca a vedere se ci sarà pure una competitor della 5070 spara prezzi alti tanto ce sto solo io lato AMD poi schede video ragazzi abbiamo ottime soluzioni ad oggi ma deve tirare giù i prezzi pure lei e non ci abbiamo novità quindi aspettavo e compri una scheda video nuova da AMD che poi tocca vedere che cosa fa miglioramento retracing un po' come sta succedendo sulle PS5 Pro e intelligenza artificiale sulla FSR insomma un po' di cose è da vedere è da vedere ma sta di fatto che morale della favola ve la sintetizzo secondo me aspettare ok tutte queste novità per farsi un pc ha poco senso poi dipende tanto dai budget se dovete fare un pc top di gamma 5090 e 9950X 3D non ve lo toglie nessuno se tanto avete i soldi aspettate fate il top perché comunque la 4090 ha due anni e prende il 9950X non 3D soprattutto se ci dovete giocare non c'ha senso poi se dovete lavorare in realtà ci avete già tutto ok vi basta aspettare la 5090 processori ci sono dipende quello che dovete fare se dovete giocare ad oggi ecco aspettare non ha granché senso dal mio punto di vista avete già opzioni interessanti Ryzen 7000 citati 7500, 7700, 7600 con schede video come la 4070 Super che difficilmente la 5070 secondo me andrà tantissimo di più e i prezzi costano tanto ad oggi ecco la 4070 Super vada a trovata a 550 euro pure quindi inizia a essere super allettante per le performance che offre vi ricordo ma comunque di più della top di gamma della genna scorsa quindi attenzione attenzione vedremo e se la filosofia di Nvidia rimane la stessa della gen non mi aspetto una 5070 che vada tanto di più di una 4070 Super e il lato professore forse potrebbe convenire aspettare l'X3D solo perché magari volete comprare l'X3D per forza ci dovete giocare e ad oggi il 7800 X3D è inavvicinabile quindi allora a sto punto mi aspetto i top tanto anche se li prendo a prezzo MSRP va a finire che lo paghi quanto al 7800 X3D che sta oggi poi da vedere le performance sicuramente andrà di più non si sa di quanto ad occhio sembra un 5-6-7% però buttalo via se lo devo pagare uguale amen sicuramente il 7800 X3D riscenderà nel momento in cui usciranno i 3D perché ad oggi con i 9000 lisci non conviene comprare i 9000 si prende il 7800 X3D soprattutto se devi giocare e ricordiamo che sto video è inquadrato più su quello perché tutto il canale è inquadrato su quello ma anche il mercato basta vedere appunto il prezzo del 7800 X3D come aspettarlo solo in quel caso secondo me se no diciamo che abbiamo già buoni processori ad oggi e in generale farse un PC oggi non è sbagliato poi vediamo se arriva pure il Black Friday se tirano giù i prezzi durante quegli eventi potrebbe ancora valerne di più la pena farselo subito il PC vediamo tante chiacchiere ragazzi vi ho portato le news quindi il mio obiettivo era in primis e quello e anche dirvi se ne valeva la pena o no aspettare vi ho detto secondo me è non un granché ma bisogna vedere cioè se dovete prendere in X3D potrebbe anche valerne la pena le nuove schede video boh non se sa costi troppo alti secondo me ma vedremo grazie per essere aiutati fino a questo punto del video vi ricordo lo sponsor a Case Fun il link è giù in descrizione ma anche il canale Telegram delle offrette chat di gruppo arrivati fino a qui un saluto al vostro Davide al piccolo Baby Yoto dove è il piccolo Baby Yoto e ci sapete al prossimo video ciao